Parliamo di arte e anche di inclusione. Che cosa accadrà a Milano dal 15 al 17 settembre con il Festival del Silenzio? Lo chiediamo all'anima della fattoria Vitadini, questa compagnia di danza contemporanea, Mattia Agatiello. Buongiorno Mattia, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, raccontaci che cosa accadrà a Milano dal 15 al 17 settembre. Finalmente, dopo gli anni di fermo purtroppo dovuti alla pandemia, riprendiamo il nostro appuntamento annuale con il Festival del Silenzio. È un festival di performing arts che cerca come obiettivo quello di creare un ambiente inclusivo e proponendo spettacoli e performance, laboratori, visite guidate, sia per un pubblico sordo che per un pubblico udente. Diciamo che è un palinsesto di differenti attività, nelle quali ci saranno diversi spettacoli, laboratori. Abbiamo attivato insieme alla Fabbrica del Vapore e nello specifico alla Mostra Amazonia delle visite guidate in lingua l'IS. Speriamo di poter offrire a diversi pubblici la possibilità di fruire di questo mondo artistico che per noi è molto importante. Ecco, Mattia, potremmo dire che l'obiettivo del festival è quello proprio di coinvolgere persone sorde, persone udenti, proprio in un'esperienza che sia condivisa. Esatto, è da diversi anni che Fattoria Vittadini ha al centro delle proprie attività una ricerca di inclusione di pubblici differenti e attorno a Spazio Fattoria, che è lo spazio che la compagnia Fattoria Vittadini ha a Milano, si è iniziata a creare una comunità di persone sorde. Quindi è un modo per noi anche di restituire a questa comunità che ci segue e che segue le nostre attività un luogo e un momento durante l'anno dove possano ritrovarsi insieme a un pubblico diverso per fare delle esperienze che purtroppo di solito non sono così accessibili. Ho capito. È molto bello quello che fate, appunto, non creare un festival rivolto solo ad un pubblico ma unire questi due pubblici, come hai detto giustamente. Dialoghi, incontro, condivisione, laboratori, corsi, eventi, spettacoli. Vuoi darci qualche appuntamento, qualche indicazione, magari qualcosa che sia aderente al nostro pubblico? Lascia a te la scelta, come dico spesso, senza far torto a nessuno, insomma, perché elencare tutti gli eventi sarebbe complicato. Però dai, dacci qualche indicazione. Sicuramente potrà essere un'ottima occasione per fare dei laboratori e per partecipare a dei laboratori condotti sia da persone sorde che da persone udenti. Un modo per avvicinarsi alla lingua dei segni e alla LIS e allo stesso tempo per vivere la performance come linguaggio comune che possa unire due mondi. La danza e la performance, essendo meno legate alla parola parlata, appunto, possono essere un ottimo link che unisca due mondi che purtroppo a volte si trovano separati. E quindi iniziare un percorso laboratoriale come ad esempio Hands and Eyes, il laboratorio condotto da Daniel e Nikita, può essere un'ottima occasione per iniziare ad avvicinarsi al mondo della performance anche da un punto di vista di artisti sordi. Un invito anche interessante è partecipare alla discussione che si creerà su diritti, femminismo e sordità condotto insieme all'aiuto dell'Associazione Fedora. Si parlerà appunto di questo problema centrale e di come anche la condizione delle donne e la condizione delle donne sorde possa essere particolarmente svantaggiata rispetto alla società che ci troviamo. Molto interessante Mattia. Ti ho presentato come l'anima della fattoria Vittadini, che è questa compagnia di danza, giusto? Esatto. Perché c'è differenza tra danza e ballo. Posso chiederti se conosci la LIS, la lingua dei segni? Purtroppo noi come in compagnia avvicinandoci alla LIS da diversi anni abbiamo iniziato a fare dei corsi e a fare diciamo delle piccole laboratori proprio per avvicinarci. è importantissimo imparare la lingua LIS per poter comunicare. Io personalmente purtroppo non sono fluente in lingua dei segni, ma persone all'interno del nostro gruppo sono comunque state educate, hanno avuto un training per poter essere in grado di comunicare e soprattutto ci appoggiamo al preziosissimo aiuto dell'Associazione Fedora che si occupa proprio di questo. quest'anno il festival infatti è in collaborazione con loro che si occuperanno proprio di tutta l'accoglienza, di tutto l'incontro con il pubblico sordo. Come è stato il riscontro appunto del pubblico? Questa è la quinta edizione del Festival del Silenzio. In questi cinque anni qual è stato appunto il riscontro di chi viene, partecipa e si sente immagino incluso in tutto quello che fate? Devo dire che nonostante le difficoltà nell'organizzare dei festival, è un festival al quale noi teniamo particolarmente il ritorno di emozioni e di gratitudine che si riceve per poter organizzare qualcosa che sia dedicato ad una comunità che a volte purtroppo non viene considerata. abbiamo anche l'attenzione di cercare di coinvolgere il più possibile artisti sordi e persone sorde anche all'interno dell'organizzazione, non sempre questo è possibile, proprio per non essere la compagnia di persone udenti che fa qualcosa per, ma è proprio un cercare di collaborare insieme per costruire qualcosa che sia per tutti. e il riscontro è ottimo, il pubblico è entusiasta delle iniziative e già abbiamo prenotati quasi per fare sold out per tutte le serate. Che meraviglia, che bello. Allora approfittiamo anche noi per ricordare questo appuntamento dal 15 al 17 settembre, Spazio Fattoria, Fabbrica del Vapore a Milano, la quinta edizione del Festival del Silenzio. Grazie, grazie Mattia Gatiello della Fattoria Vittadini per essere stato con noi. Beh, guarda, rimaniamo in contatto perché magari qualora organizziate altri eventi anche come Fattoria o altro ci farebbe davvero piacere poterne parlare per appunto raccontare anche di questi progetti di inclusione ai quali teniamo veramente tanto. Grazie mille, grazie a voi per il tempo e la cura che ci avete dedicato. A presto e in bocca al lupo. Viva il lupo, insomma. Viva il lupo. Grazie, grazie Mattia, grazie. Allora, salutiamo il nostro ospite. 9 e 40, non so se abbiamo tempo, immagino di sì, regia, per mostrare ancora qualche foto perché ne sono arrivate veramente tantissime al nostro numero WhatsApp 331-737-8033. Quindi appena la regia mi dà il via, mi mostra i primi scatti, ecco, sul nostro web, l'headwall, sono pronta. Buongiorno, questi fiori li dedico a Maria, sono fiori fatti a Maria, alla Madonna, ecco, scrive Valentina, sono fiori del mio giardino. Grazie. E poi ancora, Cristina con cari saluti. Cristina ci scrive da Mariano Comense, in provincia di Como, precisissima, grazie. luogo dello scatto, il mare a finale Ligure nel mese di settembre. Molto bello, il mare di settembre, non dico un'ovvietà, ma è davvero bellissimo. E poi, fedelissima telespettatrice, che ringrazio perché ci ha mandato una foto in orizzontale, Antonella, da Chiara Montegulfi, in provincia di Ragusa. Grazie per questo scatto. Si vede anche il mare in fondo. A proposito di mare, rimaniamo in Sicilia perché andiamo a Sciacca. Questa foto ci è stata inviata da Rosalba con affetto. Guardate che bella foto. Deve essere proprio bella Sciacca. E poi ancora, dalla Sicilia, ci spostiamo alla Puglia, l'alba del primo settembre a Monopoli, dove per tradizione dovrebbe esserci il bagno del primo settembre, ora non ricordo bene, Antonella da Putignano. Grazie. Molto bella questa immagine. Magari se c'è qualche altra foto la mostreremo più tardi in chiusura del nostro appuntamento. Intanto continuiamo il nostro Just Today di questo 8 settembre, prima di scoprire se ci sono altre notizie con Maria Pia Picciafuoco. Andiamo in pubblicità e poi di nuovo con il nostro appuntamento quotidiano.